ciao ragazzi io sono francesco saviano di 3d skill up in questo video vedremo come esportare un modello 3d da blender e importarlo in unity la prima cosa da fare è assicurarci che qui nella transform la locazione sia settata xy e z a 0 rotazione stessa cosa a 0 gradi sui tre assi xyz e anche la scala impostata a 1 se così non fosse selezioniamo l'oggetto con ctrl a applichiamo all transforms a questo banjo 3d ho assegnato come possiamo vedere qui due materiali materiali banjo parte 1 e parte 2 questo per una questione di ottimizzazione dell'uv e quindi di una migliore risoluzione delle texture quindi avremo due texture set possiamo vedere che le texture sono pacchettizzate e quindi il prossimo passo che dobbiamo fare è esportare l'fbx andiamo su file export fbx qui in path mode che di default è impostato su auto scegliamo copy questo creerà una cartella dove andremo a salvare adesso il file fbx contenente tutte le texture che erano pacchettizzate quindi spuntiamo limit to selected object e qui in transform assicuriamoci che sia spuntata apply transform in questo modo l'oggetto che stiamo esportando da blender avrà la stessa posizione rotazione e scala nella 3d viewport di unity premiamo quindi export e come possiamo vedere sono stati salvati il file fbx e la cartella contenente le texture lanciamo unity e quindi la prima cosa che possiamo fare è importare il nostro modello fbx prima di fare questo creiamo qualche cartella per organizzare meglio il nostro progetto questa asset e la cartella master la principale e all'interno possiamo creare le altre nostre cartelle quindi in questa zona clicchiamo con il tasto destro create folder e la prima cartella che creiamo è quella delle mesh nel nostro esempio sarà solo il banjo poi creiamo una nuova cartella di nome materials dove andremo a organizzare tutti i nostri materiali e poi infine la cartella texture dove andremo a inserire tutte le nostre texture ok quindi il prossimo passo è quello di importare le fbx possiamo farlo essenzialmente in due modi il primo andare qui in asset import new asset e quindi selezionare le fbx da importare o in maniera più rapida trascinare il banjo fbx che avevamo esportato qui in asset ora da qui lo sposto nella cartella mesh per avere le cose in modo più ordinato e una volta aperta la cartella mesh seleziono il banjo e lo trascino nella hierarchy in questo modo verrà visualizzato nella 3d viewport di unity quindi il prossimo passo è qui selezionare il banjo e nell'inspector selezionare materials e quindi extract materials selezioniamo da qui la cartella materials che avevamo poco fa creato e in questo modo in questa cartella verranno estratti i materiali matte banjo part 1 e matte banjo part 2 che sono assegnati alla mesh ora una considerazione importante abbiamo esportato le texture da blender tenendo in considerazione il workflow pbr metallic rogness quindi le mappe esportate sono la base coloro albido la metallic la normal open gl e la rogness queste mappe vanno benissimo per essere utilizzate con lo shader standard di unity il problema è che unity combina due mappe che sono la metallic e la rogness in un'unica mappa possiamo capire meglio questo guardando nel preset unity standard metallic dell'exporter di substance painter qui infatti vengono combinate le due mappe in un'unica chiamata metallic smoothness e come possiamo vedere nel canale rgb viene caricata la metallic praticamente nel canale rosso e mentre nel canale alpha viene caricata la glossiness convertiva da rogness a glossiness quindi unity è configurato in questo modo e abbiamo per forza la necessità di questa mappa metallic smoothness per far sì che il nostro materiale risulti credibile quindi una soluzione è quella di utilizzare substance painter per il texturing e quindi poi andare ad esportare le texture con il preset di unity oppure un'altra soluzione potrebbe essere quella di avere la mappa metallic e rogness e combinarla nel modo in cui abbiamo visto nel canale rosso per la metallic e nell'alpha per la rogness attraverso un software come come substance designer penso che questa operazione si possa fare anche con software tipo photoshop o gimp ma non ho esperienza in questo e quindi se avete qualche suggerimento lasciatelo tranquillamente nei commenti un'altra soluzione per combinare queste due mappe sarebbe quella di provare ad utilizzare questo script che è stato postato su un thread del forum ufficiale di unity da questo utente ma ritengo che la cosa migliore da fare è quella di texturizzare con substance painter e quindi puoi esportare tranquillamente le texture per unity quindi chiarito questo io ho esportato le texture con la metallic smoothness e per importarle in unity quindi possiamo andare qui in asset import new asset oppure trascinarle direttamente dentro la cartella texture apriamo texture e trasciniamole all'interno quindi l'ultima cosa che ci resta da fare è caricare le nostre texture negli shader spostiamoci qui nella cartella materials e selezioniamo lo shader matt banjo part 01 quindi rispostiamoci nella cartella texture e selezioniamo matt banjo part 01 albito e trasciniamolo qui in albito vedete che nell'inspector degli shader abbiamo la possibilità di caricare le varie mappe quindi selezioniamo la metallic smoothness la carichiamo qui in metallic smoothness la normal in normal map e l'ambiente occlusion in occlusion quindi poi ritorniamo nella cartella materials selezioniamo matt banjo part 02 spostiamoci di nuovo in texture e quindi trasciniamo matt banjo part 02 albito in albito quindi metallic smoothness in metallic smoothness normal nella normal e l'ambiente occlusion in occlusion quindi oggi abbiamo visto come esportare un modello 3d da blender e importarlo in unity se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like e iscrivetevi al canale grazie ragazzi alla prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti